Ed ecco a voi la nostra prima concorrente! Ma che maldestro! Che maldestro! Che maldestro! La signorina Caterina Robilone. Buonasera, signorina Nobiloni. Robiloni. Prego? Robiloni. Robiloni, Robiloni! In che cosa si presenta al nostro trampolino? In poesia. E che tipi di poesie? Quali gli autori? Un solo, Pardi, Danunzio, Pascoli o modestamente qualcosa di mio. Ma è fantastico! Noi vorremmo sentire qualche cosa di suo. E io voglio augurare immediatamente alla signorina Robiloni di portarsi dopo un grande successo a casa una borsa piena di... piena di... piena di... piena di... E non mi viene la battuta spiritosa. Non mi viene, non mi viene. E quando non viene, non viene. Prego! La notte, notte, notte dolce, notte, tranquilla notte, bella notte, notte, la luna ci spia, occhieggia, furtiva, complice, mezzana. E tu su di me, caldo che ansimi, uomo mio che sudi, uomo mio che godi, uomo mio mi mangi, uomo mio, uomo mio, divora questa carta mia che è tua, uomo mangiami, divorami, uomo, uomo mia! Ho guardato, ho guardato, uomo mio, divorami, uomo mio, divorami. Ho guardato! Ho guardato! Cantare... Grazie a tutti.